Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto, ospite nei nostri studi il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Buonasera sindaco. Buonasera, un caro saluto ai telespettatori, grazie per l'invito perché mi dà la possibilità di parlare direttamente da questa emittente ai miei concittadini. Mi piacerebbe farlo ogni settimana, casomai potremmo anche organizzare una cosa del genere, anche se io con i canali social cerco di parlare direttamente ai miei concittadini per informarli su tutto. Ha ragione sindaco, in televisione però è un'altra cosa, in televisione è bello per esempio vedere proprio su questa emittente, non possiamo che non partire da qui, la squadra della città, prima in classifica in Serie C. Come vede questo momento della squadra di Baldini? Ovviamente sono contentissimo, vi ringrazio per aver fatto questa diretta che ha permesso a tanti pescaresi di poter assistere a questa partita che è stata la partita del cuore contro l'Ascoli dove abbiamo fatto una prestazione eccezionale, una squadra messa benissimo in campo dal tecnico Baldini. Ci godiamo il primo posto sperando che sia il viatico per poter vincere questo campionato di Serie C e per far tornare il Pescara in Serie B dove merita, perché il Pescara merita almeno di stare in Serie B ed è troppo tempo che stiamo in Serie C e soffriamo. L'altra foto, l'altra istantanea di questa domenica che ci siamo lasciati alle spalle è il Ponte del Mare con i colori della pace per la manifestazione che contesta i contenuti del G7 di Pescara. Ma al di là delle proteste sul merito di questo evento che ci sarà a fine mese, in città ci sono state anche proteste sulla organizzazione e sui costi. Sindaco come stanno le costi? Intanto diciamo che Pescara è protagonista di un evento mondiale perché a fianco al G7 ci sarà il B7, il B7 che porterà qui i rappresentanti delle confindustrie dei paesi più industrializzati del mondo. Ci sarà l'SDG condotto dalla FAO e dall'ONU per parlare di sostenibilità ambientale in una città come Pescara che sta facendo molti passi avanti rispetto a questa tematica fondamentale per la crescita di tutti i territori. E poi avremo il G7 non soltanto con i rappresentanti dei sette paesi più industrializzati del mondo ma con la presenza di altre 25 delegazioni che proverranno da tutti i paesi del mondo proprio perché si parlerà anche della conferenza umanitaria internazionale sui problemi di Israele e della Palestina, cioè delle guerre che ci sono nel mondo in generale. Quindi è un tema che veramente mette al centro la città di Pescara, cosa che non era mai 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 successa e quindi di questo credo che tutti noi dobbiamo andare fieri. Sui costi noi stiamo spendendo il giusto, cioè quello che si deve spendere per fare in modo che Pescara si presenti al meglio per un'iniziativa mondiale. Stiamo spendendo risorse che abbiamo perché noi abbiamo superato l'inverno del predissesto perché non possiamo dimenticare che per cinque anni noi siamo stati in predissesto con la nostra gestione e precedentemente c'era anche la gestione Alessandrini con il predissesto. Quindi dieci anni di predissesto in cui non avevamo risorse e abbiamo dovuto rimettere a posto i conti. Adesso i conti sono stati rimessi a posto, abbiamo la possibilità di spendere delle risorse che stiamo spendendo per la città perché questi interventi del G7 rimarranno anche dopo per i cittadini di Pescara. Cioè ce li godremo noi, la città sarà più bella, sarà più accogliente, sarà quella città che tutti quanti noi cerchiamo e che quando i turisti vengono a Pescara dicono Pescara è una città meravigliosa. Quindi questi costi che noi sosteniamo minimi perché guardate ad Ancona c'è stato il G7 molto più piccolo di quello che si svolgerà a Pescara e la regione Marche ha messo a disposizione della città di Ancona due milioni di euro per spenderli per il G7. Noi abbiamo preso dalle nostre casse risorse per 500 mila euro, 150 mila euro ci sono stati restituiti dalla regione, abbiamo chiesto alla regione gli ulteriori soldi per coprire totalmente questa spesa ma comunque noi l'abbiamo già coperta con risorse che avevamo a disposizione. Perché oramai la Corte dei Conti ci ha certificato che siamo un comune in bonus, siamo un comune virtuoso, questo è il percorso amministrativo che noi abbiamo fatto e che ci permette oggi di fare in modo che il G7 sia un appuntamento eccezionale per la nostra città e faremo la nostra bellissima figura. Come in tutto il mondo quando si svolge il G7 la città sarà blindata, questa voglio dire probabilmente non sarà responsabilità dell'amministrazione comunale almeno questo, però voglio dire Sindaco ogni volta che c'è un evento di questo tipo e ce ne sono stati a Pescara non mancano le polemiche circa l'organizzazione e soprattutto l'informazione preventiva rispetto alla disciplina del traffico, della sosta e delle chiusure. E' accaduto per i mondiali di pattinaggio, ci sono state polemiche per tutti gli eventi, ripeto non sono stati pochi e questo bisogna ammetterlo in quest'anno la città, compresa la manifestazione nazionale di Fratelli d'Italia. Dal punto di vista del comune si può essere un po' più in qualche modo dialoganti e comunicativi rispetto all'organizzazione della città? Noi cerchiamo di dialogare in ogni modo con i cittadini, li informiamo per ogni situazione attraverso i social, attraverso i giornali, attraverso le televisioni, spesso chiediamo aiuto ai media per diffondere le notizie necessarie per informare i cittadini e per non farli trovare impreparati. Evidentemente non basta, dobbiamo aumentare la comunicazione ma lo facciamo veramente con tutti i canali possibili immaginabili, anche con la nostra pagina Facebook che ha circa 50 mila contatti, quindi le possibilità ci sono, lo facciamo. Certo non possiamo arrivare a tutti e nessuno può arrivare a tutti. Per quanto riguarda il G7 ci saranno soltanto poche zone blindate, quelle zone dove ci saranno i ministri degli esteri dei paesi più industrializzati del mondo e dove si svolgeranno le attività. Quindi parliamo della zona dell'Aurum, parliamo della zona dell'Università perché alcune attività si svolgeranno all'Università, parliamo del Comune nell'occasione in cui ci saranno le presenze di questi illustri personaggi, parliamo della passeggiata a Corso Umberto che partirà dalla nave di Cascella dove si farà la foto ufficiale del G7. Quindi con lo sfondo del mare, questa meravigliosa cartolina che noi stiamo mandando in giro in tutto il mondo per questa immagine di Pescara azzurra, bianca, colorata, bella, perché questa è Pescara e questa è l'immagine che noi stiamo dando a tutto il mondo. Quindi partiranno dalla nave di Cascella, quella zona è stata individuata già un anno fa quando sono venuti i ministri per verificare se Pescara poteva essere la città che poteva ospitare il G7. Poi i ministri passeggeranno per Corso Umberto, un Corso Umberto totalmente rinnovato, abbiamo completato i lavori, li stiamo completando in questi giorni per un corso pieno di verde, un corso con una pavimentazione sostenibile che assorbe l'acqua, che respinge il sole, una pavimentazione che è stata fatta con i fondi per il contrasto al cambiamento climatico. E passeggeranno per Corso Umberto, arrivanno a Piazza Sacro Cuore dove ci sarà la struttura realizzata dalla FAO e da Save the Children, cioè le organizzazioni non governative che si occupano di sostenibilità ambientale. Parleranno con i ragazzi delle nostre scuole di questa tematica fondamentale e in una zona totalmente riqualificata, in mezzo al verde, l'hanno scelta apposta proprio perché è una zona simbolo della nostra città per un percorso di sostenibilità ambientale. E poi i grandi della terra si regaranno all'Imago Museo dove ci sarà un incontro anche per visitare il museo. Insomma ci sono tanti appuntamenti, c'è anche un appuntamento al Cinema Massimo dove ci sarà un concerto con un'orchestra di livello internazionale dove ci saranno anche presenze di cittadini perché il Cinema Massimo contiene quasi mille persone, quindi si potrà assistere a questa esibizione, cosa che non è avvenuta nelle altre città. Sindaco, la settimana che ci lasciamo alle spalle è stata anche quella dell'annuncio di Pescara come città finalista per la Capitale dell'Arte Contemporanea. Che cosa bisogna fare ancora per potersi aggiudicare questo titolo e soprattutto qual è la rilevanza di questa candidatura? Credo che la rilevanza la comprendano tutti. Intanto questa candidatura che arriva in finale è frutto di un percorso che è stato fatto in questi cinque anni. Pescara è stata sempre considerata una città moderna che guardava al futuro ma che non aveva le basi per poter parlare di arte e di cultura nella maniera da interessare i livelli nazionali e internazionali. In questi anni è cambiato tutto perché siamo stati in grado di mettere in evidenza le nostre particolarità perché sono nati tre musei anche grazie a fondazioni private che hanno investito e hanno creduto nell'arte della nostra città. Sta nascendo uno spazio archeologico all'interno del Rampigna perché ci sono resti che risalgono a 2400 anni fa ma Pescara è la città dell'arte contemporanea. Pensiamo alle tante iniziative legate a fuori uso che è stata la manifestazione più importante per tantissimi anni legata all'arte contemporanea di livello nazionale e internazionale. Ma abbiamo grandissimi autori e artisti, ne cito uno per tutti Spalletti che è stato un grandissimo personaggio e artista dell'arte contemporanea. Ma a Pescara ci sono oggi tante fondazioni che insieme al Comune parlano di arte e di cultura e in particolare di arte contemporanea. Quindi abbiamo presentato questa candidatura mettendo insieme fondazioni, associazioni parlando di quello che è successo nella nostra città e di quello che vogliamo fare per il prossimo futuro. Evidentemente quello che abbiamo detto è stato ritenuto molto interessante a livello nazionale. Siamo fra le cinque finaliste, ci giochiamo una partita fino all'ultimo momento. Il giorno dopo la fine del G7, perché avremo il G7 il 22, il 23 e il 24 ottobre, ci regheremo a Roma a difendere la nostra città e a rappresentarla nella maglia migliore per fare in modo che Pescara possa arrivare a questo risultato che era impensabile fino a qualche anno fa. Però diciamo anche che due anni fa siamo stati anche la città che è arrivata in finale come capitale del libro. Quindi oramai ci stiamo affermando a livello nazionale come una città che può parlare a buon diritto e a buona ragione di cultura e di arte. Abbiamo quattro minuti ancora, Sindaco, abbiamo parlato delle tante luci accese sulla città, c'è anche qualche ombra di preoccupazione anche tra i cittadini per una serie di episodi che si sono ripertuti, purtroppo uno anche mortale, nel centro della città, sempre più vicino al salotto buono, come si dice, di Pescara, che vedono protagonisti gli adolescenti e le armi da taglio in particolare. Come valuta lei questo fenomeno? Come valuta la risposta che occorre dare a questa situazione? Diamo qualche dato, non possiamo non darlo perché credo che sia importante. Il sistema di sicurezza della città nel momento in cui sono avvenuti questi episodi è stato talmente efficiente da assicurare alla giustizia i presunti colpevoli in brevissimo tempo e questo vuol dire una città che riesce ad essere puntuale su questi temi. Poi c'è un altro tema importantissimo, noi vediamo troppi giovani, troppi minorenni che girano con coltelli, che oramai si confrontano in maniera violenta e qui le agenzie di socializzazione devono essere più efficaci perché è un problema sociale che non riguarda solo Pescara ma riguarda oramai, è chiaro, tutta l'Italia perché dopo il Covid è cambiato anche il modo di approcciarsi fra le persone, dobbiamo dirlo. Se noi pensiamo che ci sono ragazze, bambine che uccidono i figli appena nati, che ci sono ragazzi che uccidono per il gusto di uccidere, ci sono ragazzi che uccidono le famiglie, i fratelli, le mogli, lo stiamo vedendo, ogni giorno c'è un episodio a livello nazionale che porta questi riferimenti che a noi sembrano assurdi. Evidentemente c'è un distacco, un oiato fra la società e queste persone che non riescono a trovare altra risposta che la violenza rispetto a episodi che vivono. I ragazzi girano con i coltelli, certo è, noi ogni tre giorni ci vediamo dal prefetto perché il prefetto ci convoca ogni tre giorni al Comitato per la Sicurezza, io sono una presenza nel Comitato che cerca di dare consigli e indicazioni, ma ovviamente la titolarità di quell'attività è del prefetto, del questore e delle forze dell'ordine che sono sempre presenti sul territorio, abbiamo detto anche di aumentare questa presenza, lo abbiamo detto anche in Consiglio Comunale, io ho inviato al prefetto un ordine del giorno che è stato approvato e che chiedeva il rinforzo delle forze dell'ordine nella nostra città, però quando i ragazzi escono da casa con il coltello io credo che ci sia un discorso che deve essere approfondito sulle famiglie, sulle scuole, dobbiamo esserci, dobbiamo parlare ai nostri giovani per fare in modo che capiscano che la società, la vita non è quella virtuale che si vede sui social, ma è quella reale che ogni giorno viviamo e che è fatta di problemi e di gioie, i problemi si risolvono con il contatto, con il dialogo, con un rapporto diretto con loro, dobbiamo parlare ai nostri giovani e cominciamo a farlo dalle nostre famiglie. Bene, io ringrazio Carlo Masci per questa conversazione, raccolgo l'invito magari a rivederci, a risentirci, anche perché voglio dire adesso non si deve far più rileggere il sindaco, quindi non ha interessi elettorali e ovviamente anche a confrontarsi però con quelle che saranno e in questo studio, questo è come sui nostri telegiornali spesso avviene, con le segnalazioni dei cittadini e anche con le critiche delle opposizioni. Le accettiamo e ovviamente rispondiamo. Benissimo, grazie Carlo Masci, grazie ai nostri telespettatori, il fatto torna domani alla stessa ora, arrivederci.